Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Arta Allora, siamo di nuovo su raid2 e l'altra volta ci siamo lasciati che... Praticamente avevamo preso questo bolide Speriamo Non lo possiamo modificare perché ragazzi le gare sono da 300vp quindi lo dobbiamo lasciare sostanzialmente standard E allora ci buttiamo subito nella mischia Tanto se non possiamo toccare niente Andiamo Ci siamo ragazzi, la prima gara con questa moto Partenza è buona Attenzione Leggeri imbarcatina Che è successo? Si è scaricato il joypad Ok Cioè, questo qua non mi fa sentire il rumore della mia moto Ma che cazzo di moto è? Siamo stati frombolati a causa di un piccolo lungo Prendo la città di punta Siamo un po' più avvantaggiati Cioè, ma guardate Allora, quella è la... La moto delle sartoglie meccaniche Attenzione Allora, la moto delle sartoglie meccaniche Ci sta sempre dietro le chiappe ragazzi Non riusciamo a distanziarlo minimamente Oh, ma com'è arrivato? Ma stai pazzo Vabbè, lui arriva più sportiveggiante in curva ragazzi Perché ha le gomme da gara Cioè, no, guardate Non si schioda dalle chiappe Cerchiamo di frenare con calma qui Leggere imbarcatina Lungo Eh, mannaggia Ok, ragazzi Sta moto fa cagare La gara dopo prendiamo Quella che usavamo prima Magari la potenziamo un po' Lo mettiamo al max power Attenzione Mi scusi, eh Mi insinuo Con cattiveria Ce l'abbiamo fatta Va bene ragazzi Anche questa è andata Il silenzio La quiete Dopo la gara Vabbè Vediamo che cosa ci aspetta Nella prossima Nella prossima gara Ricordatevi ragazzi Che siamo ancora Alla difficoltà minima Amatore Anderemo per gradi Non ci butteremo Direttamente nella rookie Prima di aver concluso Tutte le gare Di questa categoria Allora Stelvio Però Gara a coppie Che palle Ragazzi Che palle La gara a coppie Vabbè Modifichiamo questa Dai Innanzitutto Potenziamo il motore Vai vai Abbiamo già montato Questo L'olio Si è consumato Leggermente Il cambio No vabbè Il cambio Non c'è bisogno L'abbiamo già messo Vabbè Questi sono già Componenti Che noi abbiamo Attivato Sulla nostra moto Vabbè ragazzi Siamo già in pista Per questa gara A coppie Aumentiamo il cambio E ci buttiamo in pista Partiti Oh Questa già è una moto Più sportiveggiante Nostro compagno di squadra Dov'è Attenzione Attenzione Sportellate Sportellate Sentite come urla Il motore Kawasaki A differenza Di quello Triumph Eh eh Potevamo farla meglio Attenzione A sta curva Grazie a tutti Staccatone qui Stiamo per concludere il primo giro ragazzi Mancano due curve sostanzialmente Il nostro compagno di squadra sta ultimo Mamma mia sta curva da fare col fiato sospeso Eh ragazzi dobbiamo cercare di Avantaggiare il nostro compagno di squadra Cerchiamo di bloccarli Vabbè ragazzi fotte sega non riesco a bloccarli Allora finiamo la gara Tanto poi dobbiamo assoldare dei piloti migliori Prima o poi E allora arriviamo sul traguardo ragazzi Per concludere questa gara Al secondo posto Per colpa del nostro compagno di squadra Che è una mezza sega Va bene Abbiamo guadagnato qualche No un attimo Mi sa No pensavo che aveva Che avessimo vinto ragazzi No invece no E in seconda posizione Vabbè che dobbiamo fare Andiamo avanti Ok ragazzi Siamo nel secondo evento Ad invito Solo che Mi sa che non ho i soldi Per comprare una naked Decente Oh questa va bene Questa va bene Dai ci buttiamo in pista ragazzi Andiamo Partiamo subito ragazzi Siamo in Grecia Subito curve cazzute Sportiveggianti E un lungo Sulla prima curva Tra l'altro Questo tracciato Si arriccia molto Su se stesso Attenzione Eh vabbè Si è impuntata la moto Mortacci Vai Accelera tutto Vai Siamo quasi arrivati Mancano due giri Attenzione C'è un fosso lì Inizia l'ultimo giro Ragazzi Dai Mamma mia Come arriviamo A sta staccata Piano Piano Vai Accelera Accelera Ultima curva Ragazzi E arriviamo Al traguardo Abbiamo ottenuto Un bel gruzzoletto Da 20.000 Crediti Vedete Quando si tratta Di individualità Riusciamo Riusciamo Agilmente Ad andare avanti Va bene ragazzi Adesso dobbiamo Scegliere Tra la La evoluzione Della moto Che abbiamo usato Finora E la tesi Naked Eccola qua Che dite La tesi No io direi No io direi La brutale In ogni caso Brutale Sì dai Brutale Non mi piacere Sì vabbè Ci sono 40 punti prestazioni in più Mi scusi Ma di che stiamo a parlare Allora ragazzi L'episodio Lo terminiamo qui Noi ci vediamo Nel prossimo episodio E inizieremo Una nuova stagione Un bacione Ciao a tutti Ciao a tutti